Buongiorno, in questo momento mi trovo completamente al buio, ma come potete vedere sono ancora all'interno di casa mia. Mi sto semplicemente cercando di abituare alle condizioni che affronteremo quest'oggi. Purtroppo sì, è arrivato quel giorno, quel fatidico giorno. Vi avevamo chiesto 50.000 like per andare a visitare il manicomio abbandonato di Monbello, a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. E questi 50.000 like sono stati abbondantemente superati. Quindi quest'oggi faremo la nostra prima esplorazione completamente al buio. La nostra prima esplorazione è notturna. Diciamo che partire da un manicomio abbandonato forse non è l'idea migliore. Abbiamo anche una buona probabilità di trovare delle persone che ci vivono all'interno di questo manicomio. Ma siccome vi abbiamo promesso questa cosa e non vogliamo deludervi, noi ci andremo comunque. Ora uscirò di casa e come sempre andrò a prendere il grande dadda. L'occorrente è semplice. Una torcia, cavalletto della GoPro, non so se mi servirà ma lo porto. Due batterie di ricarica per la GoPro e, cosa importantissima, batterie di riserva per la torcia. Per precauzione quest'oggi mi metterò anche le lenti a contatto. Non si sa mai. Ciao amore, non so se ci vedremo mai più. Se vedete che c'è ancora luce non preoccupatevi. Sono le 19.02 in questo momento. Quindi ora che vado a prendere dadda e ora che arriviamo al manicomio ci metteremo un'oretta circa. Ovviamente porteremo con noi questa. È fondamentale quest'oggi penso, mi sembra il minimo. Oggi secondo me non sarà semplice. Sarà tutto tranne che semplice. Mi sto già un po' cagando addosso ma devo cercare di controllare il più possibile le mie emozioni. Più che altro la cosa che veramente mi preoccupa è il fatto che stiamo andando in un posto che non conosciamo, che non abbiamo mai visto, di notte. La cosa più difficile da fare sicuramente sarà quella di orientarsi all'interno di questo posto. Sentiamo un attimo dadda come sta in questo momento. Proviamo a chiamarlo. Tu sei pronto veramente o no? Vedrai cosa ci succede stasera, vedrai. Dai dadda, non dire così. Già ho l'ansia, per favore. Giusto così fai le scommesse di andare nei manicomio la notte, adesso è giusto che ti prendi le conseguenze. Dai dadda, 10 minuti e arrivo. Muoviti, ciao. Ciao, ciao, ciao. Dadda devo dire che sembra abbastanza tranquillo. Ora, sottolineo ora. Tra l'altro in questo momento c'è un tempo meraviglioso, incredibile, c'è un tramonto della Madonna e noi stiamo andando a fare questa esperienza di mer... Dadda scendi che è sotto casa tua e stanno facendo un rituale satanico. Hanno appena sacrificato un capretto. Veloce dadda che la situazione è delle peggiori. Vediamo se inizia a prendersi male anche lui. Io ve lo giuro, non sto mentendo, non avrei motivo. C'è una sensazione di pesantezza, di ansia e di angoscia proprio qui a livello del petto e anche sullo stomaco. Vediamo cosa mi ha risposto. Scherza, scherza, continuo a scherzare. Vediamo dopo. Io lo sento troppo tranquillo, dadda, sinceramente. Lo silenzio dividi. Di ansia che ti sta... Dai, stai fermi. È tornato il braccio più tamarro della Lombardia. Ti stai cagando addosso, eh? Io oggi, dadda, ho ansi. Senti la mia voce, tremolante. Te lo giuro. Io sto male, dadda. Hai voluto giocare col fuoco? Tanto, dadda. Ridiamo adesso perché dopo non avremo molto da ridere, dadda. 40 minuti di strada. Ti vedo molto agitato comunque. Infatti l'ho già detto, sono agitato oggi. Hai salutato le persone più care? Io l'ho già fatto. Colleghi, lavoro, mia madre. Ho già detto? Sì, serio? Sì, serio? Io non ho salutato nessuno. E il posto è all'Inviate, dove siamo andati al Luna Park, lì vicino. Se non avete visto il video del Luna Park, andate a vedere. Però prima finite questo, se mai verrà pubblicato. Ex manicomio di Monbello potrebbe essere chiuso. Ecco. Due cenni storici, come sempre. Sì. Il manicomio vero e proprio fu aperto circa nel 1872. È conosciuto come manicomio di Monbello, ma in realtà si chiama ex ospedale psichiatrico Giuseppe Antonini, il vero nome. E perché nacque? Perché sostanzialmente in quel periodo ci fu un'epidemia di colera. Tutti gli altri ospedali della zona erano stracolmi di persone e quindi c'era bisogno di un nuovo posto. Fu chiuso cento anni dopo, quindi nel 1978, con la legge 180, che è la legge basaglia, quella sulla chiusura dei manicomi. Però ora che venne smantellato completamente, uscirono tutte le persone, passarono un po' di anni. Infatti fu chiuso definitivamente nel 1999. Sono agitatissimo, te lo giuro. La cosa veramente figa di questo posto, della storia di questo posto, è che a fine del 700 fu scelta proprio come dimora di Napoleone Bonaparte. Infatti a fianco al manicomio teoricamente c'è una villa, che si chiama Villa Crivelli Busterla, che la utilizzò appunto per proclamare la Repubblica Cisalpina. Inoltre, Dada, non so se lo sai, ma il problema, oltre al fatto che c'è buio e quindi già faremo fatica ad orientarci, questo posto è famoso perché ci sono chilometri e chilometri di sotterranei. Ci sono chilometri e di sotterranei. Infatti nel 2015, quattro ragazzi di Brescia che visitarono il manicomio, tra l'altro di giorno, nemmeno di notte, si persero nei sotterranei, e lo giuro, ho letto questa notizia, e furono costretti a chiamare i carabinieri perché non riuscirono a uscire. La spiegazione dell'esistenza di questi sotterranei in realtà è ignota, ci sono più alternative, più teorie. Uno è che fu costruito proprio da Napoleone a buona parte, questa sorta di labirinto, infatti ci sono dei veri e propri passaggi segreti, e lui teoricamente e ipoteticamente li poteva utilizzare per scappare dal pericolo, dall'eventuale pericolo. Due, che è l'ipotesi più tremenda, è che questi sotterranei venivano utilizzati in realtà per degli esperimenti su cavie umane. Questi corpi poi c'era scritto che venivano gettati nella rete fognaria. Buona fortuna amico. Come potete notare, il cielo è quasi completamente buio. Mancano circa 20 minuti e siamo arrivati, quindi quando arriveremo lì sarà buio, pesto proprio, non si vedrà nulla. Aggiornamento di 10 minuti dopo, non si vede più nulla. Sempre più buio ragazzi. Teoricamente siamo arrivati a destinazione. Dada non ti si vede nemmeno. E l'entrata è laggiù in fondo, adesso usciamo. Pronto? Sì. Ma quelli li abiteranno qua dentro? Sì. Sicuro zio, perché sono lì secondo te? Stiamo ritornando alla macchina, non perché vogliamo andare via, ma perché Dada si è dimenticato la mazza. Sì, è la cosa più importante, Dada. Allora, la prima entrata che abbiamo trovato è quella, ma non ci fidiamo molto ad entrare semplicemente perché lì davanti ci sono due persone alquanto strane. Quindi non vorremmo che ci seguissero. Stiamo cercando un'altra entrata. Tra l'altro Dada mi ha fatto notare che ci sono le rotaie che vanno fino a dentro a tutto il comprensorio. Quindi significa che c'era un treno tipo. Sì, adesso hanno murato. Hanno murato tutto, ma una volta c'era un treno. Sì, ma è enorme, non si capisce un cazzo. No, è giusto per capirci. Dobbiamo ancora un po' orientarci e capire dove entrare, perché questo è il centro formentano, che teoricamente è la parte ancora attiva. Infatti, come potete vedere, qui non è abbandonato. Sono delle luci, ci sono macchine, quindi sicuramente non è l'entrata giusta. Dove siamo? Dici che siamo nella parte giusta? Mi sa che abbiamo sbagliato. Questa è la parte, non so, che non sappiamo bene come è fatto. Torniamo alla macchina? Sì, la costeggia almeno. Torniamo a casa? Ma è una buona idea. Una buona idea. Secondo me dovremmo entrare dove ci sono i due tipi, Dada. No, Dada. Non dovevamo fare questa cosa. Cioè? È troppo buio, Dada. No, vabbè. Posso accendere la torcia? No. Non vedo niente, Dada. No, no. Dada, accendolo. Non me ne frego un cazzo, accendolo. Oh, non girarti di scatto, però. Sai qua. Questa parte è già abbandonata. Dada. Dada. Tira fuori la torcia. Accendila anche te. No, vabbè. È spettrale, Dada. È qua, è qua. È questo. Ho già sentito il rumore. È qua. È questa l'entrata. Ma la mazza non è meglio che la tieni in mano? Sì. Fa troppa paura. Lo senti, io sento continuamente il rumore. È troppo buio, non c'è neanche mezzo. No, è buissimo. Andiamo dentro di qua. Scusi, ma sembra che vogliamo credere a qualcuno. No, siamo qua per difenderci anche. Che puzza di bruciato? C'è un telefono, sicuramente. Guarda la scritta lì. Sicuro di voler entrare. Tento un fuoco io. È un fuoco che arde. Sì. Questa è tutta abbandonata, sicuro. Capito? Sì. Vuoi capire come è fatto fuori? Poi possiamo anche entrare. Anche questa è nuova, vedi che è chiusa? Era il tuo telefono? Sì, sì, era il mio. Non si vede nulla comunque, è incredibile. Oh! Senti? C'è qualcuno qua dentro, dallo sicuro. Niente, continuiamo a sentire dei rumori. Sinceramente stavo morendo dalla paura. No, cioè, lo ammettiamo. Stiamo un attimo capendo, semplicemente non riesco a parlare. Stiamo capendo come esplorarlo. Perché comunque vediamo che ci sono anche molte parti che sono attive. Tipo laggiù in fondo. Tipo di qua. E stiamo... Scusami, sono caduto. Ma sei stronzo. Questo è il primo edificio, giusto? Io non ero piuttosto da qua. Io anch'io entrerei da qua. Io entrerei da qua perché di là c'è gente, sicuro. Tu che dici? Entriamo. Almeno all'ingresso. Che cosa senti? Sono... Hai una sensazione strana, no? Io continuo a sentire rumori da qua. Ma gli altri edifici dove sono? Qui c'è bosco. Qui c'è bosco pieno, proprio. Sono passi. Sono passi di persone. Senti. Dai, 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 non dimmi così. C'è solo questo di edificio. È impossibile. Ci siamo un attimo allontanati da dove eravamo prima. Per vedere questo posto qui. Questo qua è in funzione. Cosa fanno qua? Lì c'è un memoriale ai caduti. Con la bandiera dell'Italia lì per terra. Tutte persone della prima e della seconda guerra mondiale. C'è una mappa, magari, così ci capiamo. È immenso il posto. Non pensavo fosse così grande. Ah, sì. Villa Pusterla Crivelli. Apprezzata anche da Napoleone Bonaparte. E questa? Sono Napoleone Bonaparte, eh. Guarda dove cazzo viveva. Però io sapevo che c'erano più edifici. Dove sono gli altri? Dobbiamo trovare qualcuno qui dentro che ci guidi. Qualcuno che abita qua, magari. Dici? Eh, boh, a sto punto. Se no, come facciamo? Intanto è interno da qua dietro. Che dici? Da dentro? Eh. Un attimo, entriamo dentro. Un attimo a vedere. Vieni di qua, vieni di qua. Non ti fidi qua? Io non mi fido di un cazzo di sto posto che è diverso. Sì, è bruttissimo, veramente. Vabbè, data in qualche modo dobbiamo entrare, comunque. Pericolo di crollo, anche. Andiamo qua dentro, dai. Qui non c'è nulla. C'è solo questa rete rossa dei lavori. Anche qua completamente distrutto, eh. Io ho paura di entrare nelle stanze. Sì, sì. Oh. Qua c'è una felpa, dadda. C'è una maglia qua. Questo era un bagno, c'è... Ci sono due maglie. Mamma mia. Perché c'è della cartigenica lì a terra, anche qua? Guarda la cartigenica. Andiamo un attimo di qua. Qua, qua, qua. Aspetta. Oddio. È un telefono. È un telefono. È un telefono, dadda, questo. Era dentro? Sì. No, mi stanno tremando le gambe, te lo giuro. Merda. E adesso? Almeno che esca. Almeno che esca. Meglio se esce. Eh, se esce almeno possiamo dialogarci. Capiamo che persona ha, che intenzioni ha. Andiamo di nuovo. Le persone qua dentro come si muovono? Con delle torce? No, sono tutte in buio. Dai, andiamo, dadda. Andiamo. Dai. Cioè, non ci dovrebbero aggredire. Tu dici? Si spera. Sì. C'è una televisione, un telefono, cos'è? Andiamo, andiamo. Capiamo da dove arriva, almeno. Com'è la spenta? È pieno di escrementi. Guarda che merda. Che schifo. Senti. Io mi fido più di qua, fidati. Lì è pieno di roba da mangiare, da bere. È nuova. È di là. È di là. Aspetta. Aspetta, aspetta. È di là. È dall'altra parte. Un telefono. È un telefono. No, no. No, calma, calma. È dall'altra parte. Aspetta. Aspetta. Andiamo a parlargli, dadda. Piuttosto che far così. Così siamo più tranquilli. Pieno di cibo. Pienissimo. C'è puzza di bruciato adesso. che hanno acceso un fuoco. Guarda qua. Qua ci vivono, mi sa. Qua ci vivono, zio. Morte sicura. È l'ascensore. Guarda lì. Guarda che puzza. Senti qua che puzza. Dattacela a merda per terra. Andiamo verso dove sono loro, però fidati, dadda. Chiediamo se possiamo disturbare. Perché non siamo qui a disturbare nessuno, diciamo. Sperando non ci facciano nulla. Ascoltami, vieni da avanti. Andiamo da davanti. Diciamo possiamo disturbarsi. Stiamo facendo il giro, ragazzi. Entreremo dall'entrata iniziale. Andiamo lì e li affrontiamo. Cioè, piuttosto che fare tutta l'esplorazione con l'ansia. Almeno gli chiediamo com'è diviso il posto. Almeno che vogliano parlare con noi. Magari dicono, no, andate via. Cosa c'è? Non puoi fermarti così, però. Non puoi fermarti così. Dai, andiamo, data. Diciamo, c'è qualcuno? Magari escono. Io oggi muoio di infarto. Eh, andiamo lì, parlo io, però stami vicino. Qua la puzza di bruciato è fortissima. Sono qua. No, sono sotto. Quanti saranno? Ci saranno. Così tanti? Sì. Andiamo. Stanno cantando. Sono lì. Sotto, sotto. Secondo me sono due o tre persone. Ce l'hanno già sentito loro. Sono qua. Ah, vedi che ci sono le porte. Vedi la roba lì. Sono scarpettante. Scusa? C'è qualcuno? Via, 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 via. Via, via. Non bene, eh, che ci abbiano colto così questi. Che facciamo? Ma ci hanno cacciato, praticamente. Mi sono cagato a tosse. Andiamo all'entrata. Gli facciamo, scusate. Possiamo parlare con qualcuno? E vediamo cosa ci rispondono. Sì, ma dadda, quella non era la voce di una persona che voleva avere a che fare normalmente con una persona. Andiamo all'entrata. Va bene, sì. Fa urlare con tu, Oliver, ma... Sì, ho capito, ma tu non puoi sapere che cosa c'è lui, però. Ti pare che uno si mette a urlare così? Cosa abbiamo fatto? Urla, qua, dadda. Andiamo un po' più in dentro. Non fa rumore, però. E li facchiamo, li va qua. No, vabbè, andiamo un po' più in dentro. Andiamo al mio fillà. Scusate! 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 Posso disturbarvi? Posso disturbarvi? Scusate! Può venire qualcuno a parlare un secondo? Voglio solo chiedervi una cosa. Siamo solo qui per vedere il posto. Ciao! Possiamo parlare con qualcuno? Buonanotte! Sì, non siamo qui per disturbarvi. Può venire di qua. Sì, non siamo qui per me. Adesso siamo fuori, vinto. Aspetta, io ci andiamo qua. Cosa? Vai via! Possiamo girare di qui? Sì! Ok, non disturbiamo, vogliamo solo guardare il posto. Va bene! No, tanto, non hanno risposto. Via, via, via. Ha detto una brutta cosa. Come facciamo a fidarci di un sì? Così. Anche perché poi hanno spento la musica e tutto, stavano aspettando che passassimo lì magari. Ragazzi, non ci fanno entrare. Vivono lì, quindi rispetteremo questa cosa purtroppo. Vi è trattato l'ingresso pericolo. Si può salire. Anche qua però è pieno di vestiti, di roba. Mamma mia. C'è una valigetta anche. Guarda. C'è una valigetta. Voglio stare con uno spazio chiuso, cioè ci deve essere un'altra uscita. Lo so, ma andiamo a vedere su almeno. Io qua mi sento molto più tranquillo. Proviamo ad andare su, dai. Che animali sono? Oh, c'è qualcuno. No, io sento rumore dappertutto, Dada. Non vedo più nulla. Siamo circondati. Aspetta, aspetta, aspetta. Andiamo qua, dai. Quello non è un posto sicuro perché sali poi è un po' più scena. Va bene, non importa, non vengono qua. Basta che non entriamo là dentro. Andiamo? Andiamo. Aspetta, verifica se è stabile un po'. Sì, non ci sono su, speriamo. Speriamo, non ci sono su. È altissimo, raga. È meglio non salire in due, forse? Com'è? Cosa c'è? Oh, madò. Che cos'è? Secondo me ti sta seguendo qualcuno. Dicemi. Sì, sento segno a basso. Là c'è una persona col taletto. Sì. Oh, oh. Oh. Cosa? Sì, ho sentito il rumore di... Lì, sento sempre calpestare. Sì. Non so quanto si vedrà, ma noi siamo appena saliti da qua. E siamo su una piattaforma sopraelevata. Adesso c'è un'altra scala. Proviamo a salire lì e vedere cosa c'è. Sì, questo è molto. No, non è molto stabile questo. Uno alla volta, vai. Più stai lì, più è pericoloso. Non lo sento molto stabile, eh. Oddio. È altissimo. Quanto saremo alti qua? Mamma mia. Saremo già... Quanti sono? 15 metri qua? 15-20 metri, sì, più o meno. Sono scorda una droga. È meglio per me. Arriva fino a metà, intanto. Se cade da metà non ti fa niente. Mamma, non mi faccio niente. Quanto balla? Non mi passo. Arriva fino a metà. Oh, cazzo. Non lo so, Radda. Non voglio prendermi questa responsabilità. Mamma mia, siamo altissimi. Non si vede nulla. Sì, posso provare. Fai 10 gradini. Proviamo. Sì, è vero. Traballa altissima. Aspetta, aspetta, Radda, che mi sto cagando addosso. È sempre più instabile. Basta, Tata. No, senti, senti. Basta, basta. Ci fermiamo qua. Non esageriamo. Vengo? Mi lancio? Raga, è pieno di gente che ci sta girando intorno con biciclette. Adesso ce n'era uno là sulla rete che ci controllava. Quindi stiamo scendendo. Qua cos'è? C'è una valigetta anche lì. Cosa? Chi c'è? Erano dei passi questi. Ecco. Sì. Chi è? Chi sei? Comunque siamo nel posto giusto. Guarda, Radda. Ospedale Antonini. Prima, quando siamo entrati, ero talmente agitato che non ho neanche visto l'insegno. Ospedale Antonini. C'è una sorta di mappa. Noi siamo qua, Dadda, vedi? L'edificio che abbiamo visitato è quello lì, tipo. Però è gigante. Ci dovrebbe essere dell'altro. Sì. E qua c'è scritto comunità, terapia psichiatrica. Quindi ci sono vari reparti. Puoi fare lo spuntino proteico di notte in un manicomio abbandonato? Forse ci siamo accorti. Sono i sotterranei o no questi? No, è un lago. Dadda, sei un deficiente. Non si vede un cazzo. È un lago, un laghetto. Adesso proviamo ad andare in questa direzione perché abbiamo visto più persone che vanno in questa direzione. Quindi magari c'è qualcos'altro. Questo qua? Questo è disabitato. Questo è disabitato, anche questo. Ah, è pieno di roba allora. Secondo me ci abita altra gente qua. Prima abbiamo visto due ragazze venire da questa parte. Non capisco una cosa. Com'è possibile che la gente lavori lì e ci sia questo degrado a fianco? Permesso? Sì, permesso. Ocaz. Ocaz. Abbiamo passato una macchina a fianco a noi, non è normale sta roba. Quante modizia c'è? Ecco una bombola del gas. Scusa, sì, l'estintore. Andiamo? Sì, andiamo. Permesso? Permesso? C'è cattivo odore. Aspetta, aspetta. C'è qualcuno, c'è qualcuno. No, no, notate, c'è qualcuno. Non tanto girati dietro. C'è gente anche qua, incredibile. Che cosa facciamo? Non lo so. Aspetta. E' enorme anche di là, eh. Un altro edificio lì. Un altro edificio lì davanti a noi, incredibile. Ma no, guarda questo quanto è grande. Sono stanze, queste. Sì, 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 c'è qualcuno anche qua. Mi fanno vivere in queste condizioni. Sì, c'è qualcuno. Abbiamo sempre permesso. Sì. Messo? Possiamo? Sembra ci sia nessuno. Qua sembra di no. Possiamo? Anche qua c'è gente che vive. Oh, guarda. Vieni qua. C'è qualcosa appeso lì. Una ciabatta. Una scarpa nuova. Ma è nuovissima. Come può essere? Non so. Può essere un segno di qualcosa. È nuovissima sta scarpa, raga. Vabbè, non la tocchiamo. Non ha senso tutto ciò. Non ha senso. Non ho mai avuto così tanta... Un po' di luce. Un po' di luce, madonna. Il fatto è che ogni posto, anche all'esterno, è inquietante. Cioè, guardate questo viale. Cosa c'è lì? Caschi, valigie. Come caschi e valigie? Come è possibile? Ma dici che siano robe rubate? Scarpe? Anche quella è nuova, quella in fondo lì. Cosa è un passaggio, c'è qualcosa di lontano? Secondo me è un passaggio, stavo pensando anch'io. Andiamo a vedere un secondo. Ci sono anche delle scarpe da calcio. Questo è un passaggio, eh. Buio pesto. Qua è buio pesto. Oh, cazzo, questo qua c'è un altro edificio. Lì? Cos'è lì per terra? Oh, merda. È un'entrata così là. Ma dov'è? Questo povera nascosto, hai visto questa stranina? Ci siamo arrivati da qua. Era nascostissimo sto posto. Mi stanno tremando le gambe, te lo giuro. Se esce qua qualcuno siamo fottuti. Di qua o di qua andiamo? Dove di qua? Lì. Cancello più là. Ah, è chiuso e cancello. Almeno avviciniamoci, vediamo cosa... Sì, è un'altra struttura enorme. Secondo me qua non vive nessuno. Dove vuoi andare tu? L'istinto. Dove ti dice l'istinto? Dove c'è la porta aperta. Che istinto hai? Che istinto è? No, ma magari costeggiandolo dietro si riesce a passare. Dai, qua non vive nessuno. Questo è aperto. Hai aperto? Sì. Vai, proviamo qua. Se qua vive qualcuno, siamo talmente isolati che ci squartano, non se ne accorge nessuno. Dai, per favore, da, da, mettila. Madonna. Dai, proviamo ad entrare qua. Qua me la sento. Questi armadi buttati così, indistrutti. No, è un labirinto sto posto. Sì, è un labirinto. Guarda qua. Cos'è sta roba? Una nuova. Sembra una chiesetta, tipo. Questi erano i bagni. Sì, c'è la vasca. Là c'è scritto, tu non sei solo. Guarda il sangue. Aspetta, aspetta. Non c'è nessuno. Aspetta, aspetta. È sangue quello? Raga, che cos'è sta roba? Secondo voi è sangue o colore delle bombolette? Cioè, guardate. Guardate lì, assurdo. Anche qua. No, andiamo un po' più avanti. Guarda qua. Che ansia. Secondo me qua fanno dei riti, qualcosa. Pazzesco. Gli armadi enormi, buttati a terra così. Sembrano delle... L'ultima stanza è stata completamente distrutta. Cos'hai da donna? Cosa c'è? Aspetta. È vero, ci sono tutti i simboli. Eh? Ci sono tutti i simboli satanici qua dentro. Guardate, tutte le scritte. Che è una preghiera satanica o leggere. Questo è assurdo, sto posto. Ma le scale per salire? Vedendo la stanza dopo, forse quello la salgo. Dici? Comunque, ogni edificio c'è un cortile interno. Sono tutti simili, comunque. Cosa c'è scritto? È una preghiera. È una preghiera. Sembra. Guarda qua. È l'ascensore. È l'ascensore. Pazzesco. Incredibile. Le scale. Perché c'è un muco sul muro, là? Andiamo su un attimo, dai. No, guarda qua, è crollato tutto. Guarda su. Raga, qua è tutto crollato. Andiamo solo fin lì e torniamo. Un secondo. Sì, l'ascensore è pazzesco. Guarda che qua è tutto crollato. Secondo me la gente non sta qua perché c'è il rischio di crollo. Torniamo giù, dai. Guardate i soffitti, raga. Sono delle voragini intere completamente crollate a terra. C'è qualcuno che urla. C'è qualcuno che urla. Senti. Era un urlo, però era lontano. Ma cos'è tutta sta roba? Guarda qua. Qua ci sono frighi, condotti dell'aria. Questo è un altro ancora. Andiamo a vedere. Eccoci all'interno di un altro padiglione. Guarda qua. Guarda, sei sei sei. Il numero della bestia C'è scherzo Ci sono delle feci fresche Mai avuto così tanta adrenalina Dobbiamo fare sta strada che è la strada di prima Ma abbiamo appena sentito dei passi Ma prima non c'era acceso il farro qua È completamente bugo adesso È stata una macchina quindi abbiamo spento le torce E ci stava investendo Esatto, ci stava quasi investendo Stiamo cercando i sotterranei perché teoricamente ci sono Non abbiamo trovato l'ingresso Vediamo di trovarli Di trovarli Secondo te i sotterranei si entra da dove siamo entrati in uno dei posti O c'è una scala particolare fuori Le uniche scale che ho visto oltre alla botola Sono queste Vedi che ci sono delle scale Proviamo a vedere se è fattibile Forse sì Sì, dadda Proviamo Non c'è niente? Ah no, cazzo Non c'è niente Torniamo su L'ultima cosa che ci rimane Io sto un attimo su e vedo intorno Tu scendi Classico, lo Cerchiamo di capire cos'è quella botola Cioè, servirà qualcosa con la botola Non voglio scendere a me Non finire a vedere cosa c'è Vai, entra Che casino che c'è qua sotto Ma si può continuare? No Tieni, mostra cosa c'è Sono sempre delle tubature Ora è pieno di valigette, rifiuti, ruote Cerchiamo un attimo su internet se c'è scritto qualcosa Stiamo cercando su Google il modo per entrare nei sotterrani Magari vedendo da un video capiamo e raggiungiamo semplicemente l'entrata Niente ragazzi, dai video che abbiamo visto Non si riesce a capire da dove si entra nei sotterrani Abbiamo visto che c'è una sorta di cunicolo che scende Però non riusciamo a capire dove è Anche perché è buio e quindi non riusciamo ad orientarci Dato che sappiamo teoricamente che i sotterrani sono chilometri e chilometri In lunghezza Potremmo dedicarci un video intero solo per i sotterrani Solo per i sotterrani Solo che come non sappiamo dove sono abbiamo bisogno di una persona Quindi scrivetelo qui sotto nei commenti Poi selezioneremo uno di voi Oppure scrivetemi anche su Instagram Detto ciò, completamente immersi dal buio Termina qui questa esplorazione Che tra l'altro è colpa vostra Se l'abbiamo fatta perché siete degli stronni Io vi ringrazio per il continuo supporto Non preoccupatevi perché continueremo all'infinito questa serie Assolutamente Tutti i luoghi abbandonati d'Italia E del mondo Per adesso Per adesso d'Italia Attenzione piccolo spoiler Ringrazio anche Dada come sempre Oggi però Non so se non resti difeso da quelli Come no? Io mi sono un po' cagato addosso sinceramente Sì perché erano un'unità Proprio minacciosa Erano minacciosa Non ci piacevano queste persone Magari sono le persone più tranquille al mondo Ma per come si sono rapportate a noi Con peso proprio Esatto Niente raga Io chiudo qui il video Che ore sono? 10 e 45 Sono le 11 meno 20 Siamo stati qui circa 2 ore e 40 E niente Ci vediamo prestissimo con un prossimo video Bella Ciao 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 Ciao